Ricerche e innovazione sono da sempre le caratteristiche espresse dal cantiere Vismara, via Reggio, uno dei pochi in Italia a produrre barche a vela ad altissima tecnologia e conosciuto in tutto il mondo. Il progettista e titolare del cantiere, Alessandro Vismara, lunedì prossimo attraccherà nel Golfo di Policastro e terrà a Villa Mario una lezione, dalle venti in poi, presso il Campoboe, sottostante il Parco Marinella. Ad accompagnarlo sarà l'armatore Vismara, Alessandro degli Innocenti. Un evento da non perdere, afferma il presidente della Lega Navale di Sapri, promotore dell'iniziativa. È un'esperienza veramente unica e rara perché diciamo che capita di rado vedere o ascoltare naturalmente questo progettista che verrà tra l'altro Alessandro Vismara a Via Mare, quindi verrà a Via Mare a Sapri, ormeggerà a Sapri con la sua barca a vela, un baltic che si chiama Neverland, di 18 metri. Viene dalla Toscana, da Via Reggio, è la sede del cantiere, viene Via Mare, ormeggerà a Sapri. Dopodiché ci trasferiremo a Villa Mare, al Campoboe, al Parco Marinella di Villa Mare, per fare questa grande festa dove siete invitati tutti, è gratuita. Pensate che un evento del genere di solito è a pagamento. Si parlerà non soltanto di vela ma anche di alta tecnologia perché essendo un'azienda molto all'avanguardia sviluppa tutta una serie di processi industriali per realizzare queste barche in collaborazione con l'Università di Firenze e di Ingegneria. Grazie a tutti.